Leonardo Silva Revisore-Papia Mi chiamo Fausto, come Fausto Coppi, e sono innamorato del ciclismo. E con lei, e con un'altra ventina, abbiamo percorso più di 300.000 chilometri, e non ho ancora fatto il tagliando. Tutti i bambini hanno dei sogni. Chi di voi non ha mai sognato di diventare un campione? Di entrare al Bernabeu, a San Siro e tirare due calci al pallone con Cristiano Ronaldo, Riva, Mazzola? O di trovarsi sotto il canestro del Madison Square Garden e palleggiare con Michael Jordan? Trovarsi in piscina e fare due bracciate a fianco a Federica Pellegrini? E io? E anch'io sognavo da bambino. Io sognavo di scalare i tornanti dello Stelvio come Fausto Coppi e di incontrarlo sulle strade della Milano-Sanremo e pedalare a fianco a lui. Perché amo il ciclismo? Perché negli altri sport i campioni sono là irraggiungibili, a volte, come i nostri sogni, sono dentro in quello schermo dove in quei luoghi loro compiono le loro imprese sportive. Quelle imprese sportive che rimangono dentro scolpite nelle nostre menti, che riempiono i nostri cuori. Quei cuori che ci fanno appassionare, come adesso, per il nostro Yannick Sinner, che vorremmo tutti andarlo a vedere prima di un match, quando si allena, non ti fanno entrare, non ce lo fanno vedere. E se vuoi andare a vedere la finale di Wimbledon? Ammesso che tu trovi i biglietti, ma quanto ti costano? Non sono gratis. Nel ciclismo è diverso. Tu puoi andare a vedere le Olimpiadi, i campionati del mondo, il Giro delle Fiandre, il Tour de France, il Giro d'Italia, la Paris Girobe, entrare, godertelo in prima fila senza pagare il biglietto e senza chiedere nulla, senza chiedere permesso. E vabbè, cosa ti costa? Sì, il costo della benzina per arrivarci e la fatica di arrivarci. Com'è arrivare qui, dietro? Proprio in questa piazza, qua a 50 metri, dal 1919 parte una delle corse ciclistiche più famose storiche del ciclismo, la Coppa Bernocchi. E se ti presenti prima, e se arrivi prima della partenza, puoi incontrare i campioni che hanno fatto la storia del ciclismo, che hanno fatto la storia di questa corsa e fare una foto col vincitore di quel giorno della corsa e ti porti a casa un ricordo per sempre e non ti costa nulla. Per un ciclista, per un corridore, il sogno da bambino è vincere il Giro di Francia, il Tour de France. è la corsa più importante, ma è l'evento sportivo più seguito al mondo. Più della finale del Super Bowl, più della finale di Coppa Campioni di Calcio. Viene trasmesso in circa 200 paesi nel mondo e più di 3 miliardi e mezzo di persone lo guardano in televisione. decine e decine di milioni di persone si riversano sulle strade aspettando sotto la pioggia il sole, aspettando ore per vedere sfrecciare i propri campioni beniamini e incitarli, per vedere sfrecciare 10-15 secondi. questo è il cuore del ciclismo. E al nostro Giro d'Italia? Ah, quest'anno il Giro d'Italia è diventato brand ambassador mondiale del Made in Italy. E al Giro d'Italia le scuole interrompono le lezioni per permettere ai bambini di salutare la carovana rosa. La carovana rosa è quella lunga scia di macchine e pubblicità che precede il passaggio dei corridori. È come un nastro che unisce le Alpi alla Sicilia e la nostra Italia. Come lo dice il nostro ligno nazionale, dalle Alpi alla Sicilia ovunque è legnano. Eh sì. In quei 21 giorni l'Italia si tinge di rosa e chi vince la maglia rosa diventa un eroe nazionale. uno di loro, Gianni Bugno, il 6 settembre 1992 in Spagna, a Benidorm, vince per la seconda volta consecutiva in presa storica il campionato del mondo di ciclismo. E pensate, lo stesso giorno, il 6 settembre del 1992 vinco a braccia alzate la Milano-Sanremo per non professionisti. io sono ancora lì con la felicità addosso e ancora adesso ho la pelle d'oca per ricordarmi quei momenti. Quattro giorni dopo, mentre continuavo ad allenarmi, non ci si ferma, mi passa a fianco lui, Gianni Bugno. io mi giro e dico ehi, Gianni, campione, dove è la maglia ridata? E lui mi dice, dai, pedala che ti offro qualcosa. È stato bello, molto bello, pedalare a fianco, ruota a ruota, per ore, insieme al campione del mondo. E poi, fermarci in un bar, ci offre il caffè, a festeggiare le nostre vittorie, un po' diverse. e poi riempire la borraccia e ripartire, insieme. In un'altra occasione, mentre mi allenavo in salita, mi passa, mi sfreggia a fianco Marco Pantani, il pirata, il re indiscusso delle salite. E mi dice, dai, dai, che manca poco. Col cavolo, che mancava poco. C'è, a l'onore del vero, ce n'era di arrivare su in cima ancora. tanta fatica. Fatica. Fatica non la senti più. Le gambe girano da sole, perché è l'emozione, l'adrenalina che ti travolge. Il campione che tu hai sempre guardato dentro in quello schermo e che hai letto solo le sue imprese sui giornali e fianco a te sulle stesse strade che ti alleni, si allena lui e ti dice, dai, dai. Ma dove lo trovate in un altro sport? È bello. è bello sapere che da settembre 2023 lo sport e il ciclismo entra a far parte della Costituzione italiana. Gazzetta ufficiale, articolo 33. Lo sport è un pilastro sociale ed educativo e il promotore del benessere psicofisico di ogni individuo. e se aggiungiamo che Lega Ambiente e l'Osservatorio del Turismo ha notificato che lo scorso anno 33 milioni e mezzo di persone hanno attraversato la nostra Italia in sella a una bicicletta. sono numeri importanti che hanno generato più di 7 miliardi e mezzo di euro. Sono numeri che ci dicono due cose. Uno, che sorprendentemente il ciclismo è lo sport più praticato. Due, che questa ricchezza ha portato a un aumento del turismo, ha aumentato investimenti, ha aumentato la sostenibilità che è ben chiara nell'Agenda 2030 dell'ONU che con i suoi obiettivi chiamati goals che sono ben 17 chiede a tutti gli stati membri di intraprendere iniziative e attività per darci un futuro migliore e un pianeta più sano e pulito. E salire in bicicletta possiamo raggiungere 7 obiettivi tutti insieme. Quindi la bicicletta non è solo un veicolo, un mezzo di trasporto inventato 200 anni fa. È un veicolo, un promotore verso un futuro migliore è un pianeta più sano e pulito. E nell'agonismo? Nell'agonismo ogni evento sportivo è una gara, è una competizione. E nel ciclismo è una gara individuale, vince una persona sola, vince un capitano. Chi taglia la linea del traguardo è una persona sola. Ma c'è una grandissima differenza. la vittoria è dovuta solo al supporto della squadra. La prossima volta che avete voglia di vedere una corsa ciclistica o dal vivo o in televisione notate quei 20-30 secondi dopo la linea del traguardo. cosa fa il vincitore e il capitano appena scende dalla bici? Si gira e con lo sguardo va a cercare i suoi compagni di squadra per andarli a abbracciare. È lui che lo fa in senso di gratitudine perché capisce, sa che ha potuto sfrecciare davanti a tutti grazie al supporto della squadra. Torniamo in Francia, al Tour de France, l'evento sportivo più importante. Al vincitore va un ricco Montepremi, ma tanto ricco. Ma non va a lui, non va solo ai suoi compagni di squadra che l'hanno aiutato a salire sul gradino più alto del podio, ma viene distribuito a tutto lo staff, meccanico, medico, massaggiatore, a chi riempie le borracce, a chi fa i panini da mettere dentro nella sacca, a chi guida la macchina. Quindi una corsa ciclistica non è solo una gara o una competizione. È un evento che tocca e influisce la vita di tutte le persone. Ci unisce, ci rafforza, ci ispira e ci aiuta. come luglio di 24 anni fa. In mezzo alle Alpi Francese, 8.500 ciclisti, corridori, si sfidano in una delle corse più dure, estreme d'Europa. Una corsa che si chiama La Marmotte. Quasi 6.000 metri di dislivello. Io e i miei compagni di squadra siamo lì, pronti a questa sfida. E ci aspettano circa otto ore su e giù. La giornata parte bellissima. Questo cielo splendido, questo sole meraviglioso che illumina ancora qualche vetta innevata a luglio. E si parte via, 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 via veloce. E mentre scaliamo la vetta più alta siamo aggrediti da una tormenta, da una bufera di neve, dove i fiocchi sono aghi, spilli sul mio viso. E il freddo fa diventare le gambe dure, dure come il marmo di Carrara. Ma io non mollo. Altri corridori salgono sull'ammiraglia. Altri interizziti si rifugiano in quei pochi bar che a quell'altezza si trovano. E io sono in vetta a 2650 metri più alto di alcune piste da sci, interizzito, freddolito come un pinguino. Ma non è finita. Bisogna scendere, giù, in mezzo alle nuvole. Non si vede niente. I tornanti e le curve le vedi all'ultimo momento. Ma devi frenare. Ma ti tremano le mani congelate. Trema il corpo, trema la bicicletta. Hai paura di cadere. E giù, a valle, fino in fondo. Ma cambia di nuovo tutto. Un caldo, un sole, 35 gradi. E il viso diventa rosso come il peperone. E le gambe sono molli come il miele. ma bisogna arrivare in cima. C'è questa parete che io abbasso lo sguardo perché ci sono 21 tornanti che mi devono portare su. Su in cima a 1900 metri. Ma le gambe e la testa cominciano ad abbandonarmi. in quel frangente passa a fianco Daniele, mio compagno di squadra. Faccio finta di non vederlo. Lui mi guarda, capisce perché i miei occhi, il mio viso parlano. E come? E mi dice a lei, Fausto, mettiti qua a ruota e non mollare. E io mi metto lì, proprio, serio, così, non sento niente. Guardo solo la sua ruota, guardo la sua bicicletta, guardo solo la sua sagoma. E non vedo, non sento nulla. Mi dicono poi all'arrivo, che mi dicono a lei Fausto dell'amiraglia, a lei, a lei, a lei. Le persone al fianco che ti incitano per portarti su, in alto. E dopo otto ore, arriviamo su stremati. Ma Daniele, Daniele rallenta e mi fa passare prima di lui. Sono momenti di esplosione di felicità. E quell'amicizia che tu in quel momento sai che è unica, forte e indispensabile. È un'esplosione di felicità condivisa con l'amicizia. È la felicizia. Perché la felicità è un viaggio, non è una destinazione. Non importa quanto sia impervio e duro il percorso. Perché quel viaggio è la nostra vita, è la tua vita. E la prossima volta che saliremo, salirete in sella una bicicletta. Non state solo pedalando, ma vi state muovendo verso un futuro migliore e un pianeta più sano e pulito. Tutti i bambini hanno dei sogni. E io sogno di trovarvi prima o poi tutte sulle strade della Milano Sanremo. perché i sogni non costano nulla. Proprio come andare in bicicletta. A lei tutti in sella!